se c'è un giocatore che ci mancherà tantissimo nel 6 nazioni di quest'anno e che tra l'altro è amatissimo dalle donne è Mathieu Bastardot il francese centro un biscottore esatto un centro che poteva giocare piloni tranquillamente e che visto da fuori sembra un tenerone sembra sembra e può essere anche fuori dal campo è completamente diverso rispetto al campo però in campo è un bel lottatore è è largo è è difficile a tirare giù tra l'altro ultimamente molto attivo sui social problema che non rientra nelle foto per quanto è largo peserà 120 kg non c'è un zoom giusto per fare un selfie ma come si ferma uno così e qual è la sua caratteristica ti butto davanti e speri ti butti davanti e speri che cade no non è e lì ovviamente va tanto sulla tecnica devi se la prende frontale è difficile perché è molto molto largo se tu mi stai dicendo che Bastardot è molto difficile da placare perché ha il culo grande perché il culo grande non riesci a circunfrenzare la sua bacino con le braccia effettivamente nessuno ha le braccia larghe come una smart no esattamente sembra quasi la caratteristica di un supereroe e può essere anche se lo mette e allora il secondo posto in classifica dobbiamo per forza assegnarlo al al di dietro di matthieu Bastardot di dietro importante abbondante